Salve a tutti ragazzi, sono Lord Kane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Ma come? Un video dedicato al poker su un canale dedicato al poker fatto da Lord Kane? Ebbene sì, ogni tanto, anche se di solito questo tipo di contenuti, quindi lezioni con scade eccetera, vengono con le vise ai ragazzi del gruppo, su G-Drive gratuitamente, eccetera eccetera. Però, visto che vi ho caricato qualche video su Isaac e forse sono un po' off topic, ho pensato, se voglio caricare il prossimo video su Isaac, devo anche caricare qualcosa di poker related. E ragazzi, visto che lo sapete, se non mi mettete i like sul video di Isaac, io impazzisco e non vi faccio più niente di pokeristicamente parlando, no? Sto ovviamente scherzando, ma smash that button please. Allora, argomento del giorno, questa meravigliosa giornata di pioggia tra l'altro, parliamo della turn ribarre contro range k. Ok, quindi stiamo sviluppando in più, stiamo ragionando più sul range avversario che sul nostro, ok? Ma adesso lo vedremo con calma, quindi non precipitiamoci perché saranno contenuti un po' particolari. Un altro appunto, devo farvelo subito, trovate sicuramente materiale su questi argomenti, principalmente .com, cose come per dire Rani Tuance, dove di solito io ogni qualche mese vado a farmi un bel corso di aggiornamento, se non sempre ho un sacco di cose interessanti. È un po' difficile essere originali su cose dove voi dite Solver, io imposto queste due size, questo è il range avversario, sviluppalo, no? E ovviamente Solver sviluppa sempre, secondo i soliti concetti, quindi non è complicato, a mio avviso, è un po' complicato capire i perché, no? Che dovranno andare a informare il nostro gioco e a renderlo sempre più consapevole di quello che facciamo. Quindi dubito che ci sia una grande originalità perché questo è quello che si fa, no? Ok? Prendiamo il range, ripetiamo su Solver, impostiamo le size, mettiamo qualche lock, così che il nostro avversario non faccia cose, oppure che noi non si voglia fare cose, ok? E sviluppiamo la nostra strategia, ok? Lungo discorso, dai tanto lungo non è un minutino di discorso, torniamo in topic. Turn e ribarre contro range cappato, ok? Ragioneremo in questo video su come giocare contro i range cappati, sviluppare le nostre strategie in termini di batch sizing per massimizzare i live, ok? Concentrandoci principalmente sul gioco al turn, ok? E quindi alcune cose le glissiamo un po' su come sviluppare preflop, flop, tutte cose comunque che già i ragazzi del gruppo almeno sanno sicuramente perché il materiale è già condiviso, ok? Quindi topic ragioniamo sullo sviluppo dei range, sull'effetto, ok? Su che tipo di strategia adottiamo e che size, ok? Disclaimer, no, premesse. Allora, per lo sviluppo dei nostri range preflop e flop, rimanda il materiale gratuito, condiviso, viaggi drive a tutti i giocatori. Questi, sapete, no? Fate account gratuitamente, fate un cento di reiki, siete comparsi, ecco il minimo di reiki richiesta e automaticamente avete accesso a richiesta vostra, ovviamente, alle chat di gruppo, al materiale condiviso sugli account, per l'altra ora ho cambiato e c'è proprio condiviso tutto nel primo momento in cui esistete, no? Nella vita del Crazy Team invece che condividere sette video settimanali più quelli nuovi. Era una noia pazzesca. Comunque cerchiamo di rimanere concentrati, se no impazziamo già dopo il primo minuto. Per semplicità, e questo è abbastanza importante, ho inserito in questa trattazione di questo argomento alcune combo in chibet flop che sarebbero in check flop e spray flop racer. Parlo arabo? Non credo, più o meno, ragazzi, sono termini che sapete. Ecco, non sarebbero state in chibet, quindi abbiamo ipotizzato che il nostro range stesse full chibetando flop così che Oppo poi reagisca a questa nostra strategia e sviluppiamo poi i range al tar. Ok? In questo modo il nostro range al tar è più facile perché il range che avevamo al flop. Se noi ci mettiamo intero range flop è chiaro che il range che trasportiamo al tar è lo stesso che avevamo al flop. Il range del nostro avversario cambierà. Ok? In questi casi, visto che stiamo ci mettendo 100% range, la nostra size sarà piccola, 35% più che bene. Mi raccomando, l'ho scritto pure in capital letters, non è decisamente una strategia che consiglio. Non voglio parlarci troppo adesso perché ragioniamo sui tar, ma il nostro sviluppo di strategia, soprattutto a flop, deve comunque plasmarsi su informazioni, quindi sulla board textures, chi ha il vantaggio di range, su come il nostro avversario splitte sui range e su cosa vogliamo fare. Siamo più o meno bilanciati contro un giocatore più o meno bilanciato e al contrario siamo più o meno sbilanciati contro un giocatore che bilanciato non è. Trovatemi veramente un giocatore bilanciato e ci sarà, esisterà, probabilmente almeno nei testi scolastici esiste. Nella realtà, chi lo sa. In particolare, la strategia di cibetflop in termini di GTO, che ragiona su board textures, sul concetto di range of advantage, è la data per acquisita. Già sapete, perché se ormai avete accesso al materiale gratuito, quindi chi non ha accesso tiratina d'orecchie, quindi ci troveremo meno spesso, seguendo, ok, la nostra linea normale, non quella che adesso sviluppiamo di full cibetflop con trasporto al turn, ok, noi ragioneremo su texture, su avvantaggi di range, ok, su sviluppo della nostra strategia. Quindi, seguendo una strategia normale di continuation bet, normale, funzionante di cibetflop, ci troveremo meno spesso al turn in full cibetflop, quindi non ci metteremo sempre, ovviamente, il nostro intero range con quella size, ma ragioneremo su che size fare sui board, di come proteggere il nostro range, concetto importante, la protezione del range. Comunque, ci troveremo quindi meno spesso al turn contro un range non cappato, qui parliamo del range avversario, e più spesso al turn con il nostro range mai cappato, ok, dipende da come splittiamo i range of flop. Se ne stiamo cibetando flop una texture dove il nostro vantaggio è presente, può aver senso anche cibetare l'intero range e portare il nostro range al turn. Se invece stiamo cibetando un flop dove il nostro vantaggio di range è decisamente meno presente, possiamo sviluppare un altro tipo di strategia. Mi raccomando, ricordatevi il topic principale, in questo video è il range avversario, non il nostro, ma dovevo dirlo, perché poi i ragazzi, che io adesso questo video lo condivido con YouTube, anche se di solito questo tipo di lezioni sono girate semplicemente ai ragazzi, vanno andre, ho visto il video lì, ma non capisco, tu ci hai detto di giocare così e sto facendo soldi, perché devo cambiare il range a flop? Perché non parliamo del range a flop? Adesso sviluppiamo i nostri concetti sul range al turn, ok? Premesse fatte, non so, ma probabilmente questo video sarà in due parti, se ci mettiamo sette minuti per le premesse, comunque partiamo da una definizione, perché è banale, ma lo sapete tutti, spero. Cos'è un range cappato? Il key range, che non è vero, è figo usare la cappa un po' dappertutto, è un range che contiene un numero trascurabile, ok, di combo dei Nats, che è un combo dei Nats, come ad esempio, pensiamo a preflop, Villan chiama e non ha tributato, soprattutto in uno spot multiway, adesso faremo anche un paio di esempi, sfruttando il nostro Equilab, oppure postflop, quando Villan non resa, magari su un board coordinato, soprattutto negli spot di edge up, di gioco uno contro uno e fuori posizione. Ora apriamo un attimo il nostro Equilab, giusto perché credo sia facile, comunque noi siamo MP e stiamo aprendo il nostro range, non so che range sia, diciamo che è questo, bottone, è fischettino, ok, più o meno fischi, insomma in qualche modo è un giocatore che gioca tante mani, che poi c'è 4, 20, quello che è, e tribetta solo le mani un po' più forti, quindi più o meno starà tribetando le mani di questo tipo, più o meno, e ha chiamato, ok, quindi possiamo dire su queste combo ogni tanto, il nostro avversario che è comunque un po' fischio, ogni tanto, senza neanche farlo apposta, avrà qualche combo di mani forti, ok, come queste, queste quante sono? 2, 4, 6, 8 combo di mani forti, circa queste combo, però 8 combo su 600 combo, è un numero, come dicevo, è un numero trascurabile di combo di nas, se ne avrà qualcuna, ma sposta veramente poco, poi riprendiamo meglio il concetto anche più avanti, ora in questa dinamica pensiamo che noi apriamo, fischiama, e la big blind c'è un reg di profilo nittish, ok, i soliti 24-20, quei profili un po' così, che ho stati di betta, torno al 7, i soliti giocatori un po' così, che range di quello avrà, ma principalmente a quel range un po' explitativo, un po' facile, che magari va a ittare un po' i bordi, magari a mani di questo tipo, o cosa di questo tipo, così, ma in questo range il nostro avversario non ha mai la parte alta che è il suo range, quindi concettualmente è un range cappato, che non comprende le parti di Nats, ricordiamoci, preflop è giusto per chiarire il concetto, noi ragioneremo molto di più ovviamente, postflop, ma preflop è facile, perché le strade di betting poi a un certo punto si chiudono, e valutiamo l'action, e valutiamo che tipo di range è contenuto, nelle mani giocate così dai nostri avversari, al flop vedremo tre carte, quindi è improbabile che il cap resti, praticamente non resta mai, quasi ogni board, poi lo vediamo meglio, quasi ogni board può togliere il cap dai range di tutti i giocatori, ecco, quando noi spostiamo da preflop al flop, quindi il massimo numero di carte che vengono viste, il cap viene tolto praticamente sempre, quando noi spostiamo dal flop al turn, esce una carta sola, quindi meno variabili, è più facile, più incisivo, incisivo, meglio, le nostre approssimazioni sono meno volubili, esiste, no, volubile è un'altra cosa, comunque sono un po' più precise, il nostro educate guessing, che vi ricordate cose utili, saranno un po' più calzanti, e faremo meno errori che ci porteranno a tenere una strategia migliore. In questa dinamica, per chiarire il concetto, numero trascurabile di combo di Nats, pensiamo al nostro villain, chiama e non tribetta, in spot multiway, quindi pensiamo a prima, apriamo MP, chiama bottone, profilo Fish, chiama Big Blind, regli profilo Nitsch, difficilmente ha delle combo di Asso Asso KK, e magari sta giocando 200 combo, 300 combo in call, mentre Fish, che magari gioca 700 combo in call, magari ne ha 10 volte mani di questo tipo, ma sono trascurabili. trascurabili. Pensiamo a post flop, quando villain non resa, su un board coordinato, ok, soprattutto su spot e zap, e fuori posizione. Ora, per dirne una, apriamo bottone, chiama BB, BB, profilo giocatore abbastanza sensato, esce un flop 6, 4, 3, quindi vantaggi di range, un po' al limite, per il bottone, per non dire inesistente, per qualche motivo, bottone sta ci bettando intero range, il nostro avversario sa, che contro questa strategia di size piccola, e range troppo frequente, anche quando non dovrebbe, è importante, su quella texture, avere anche un range di raise, che sia un po' più merge, non solo polarizzato, con blef e valore, ma anche con, free value, protezione, value, protezione delle nostre equity, negazione dell'equity avversario, ok, quindi, facile, concetto di range capato, ma a noi interessa sempre, lo sviluppo, ok, per la comprensione ottimale, no, della strategia che stiamo adottando, mi raccomando, dubbi, domande, perplessità, il mio consiglio è, foglie di carta, uff, se siamo moderni, un block notice virtuale, sul computer, a notarsi le cose, e quando avete finito, mi scrivete, o qua nei commenti, o da Skype, tanto ormai lo spam, ha superato ogni limite possibile, immaginabile, mi scrivete, andre, non ho capito, minuto 24, slide numero 3, siamo solo da 3, domande su questo, tutto deve essere chiarito, esempi, li ho già un po' accennati, no, allora, preflop, apriamo mp, chiama bottone ai profilo fish, 50, 20, 10, chiama bb, regnit, in questo caso, 24, 27, ok, per quanto fish, possa avere, qualche combo forti, che il nuts, preflop, ovviamente, sono solo le combo più forti, contro range casuale, le migliori equiti, ecco, è un po' riduttivo, ma è giusto, funziona, e, in questi casi, oppo può avere, qualche combo, di assasso, kk, un paio, magari, un paio per tipo, una decina in tutto, saranno comunque, una decina di combo, su 500 combo di call, trascurabili, mi raccomando l'idea, non è sempre, o mai, ma di questo ne parliamo poco, è educated guessing, regnit, in questo spot, non chiamerà mai, top range, magari, a qualche mano, perché particolarmente nitti, come, che ne so, jack jack, che è super in dubbio, che faccio, la triventola tollo, è troppo buona da foldare, chiaramente non la fold, ma è abbastanza buona da risare, no, allora la chiamano, team team process, basato più sulle carte, che contro i range, adottati, cose molto comuni, poi siamo al flop, Villan ha, un range di race, versus cibette, questa è una cosa importante, Villan ha, un range di race, versus cibette, e chiama, su board, dove l'equity, del suo range, è vulnerabile, su molti tardi, e su molti river, ok, pensiamo, a un board, come vi dicevo, apriamo noi da bottone, ora, non so esattamente, che range stiamo aprendo da bottone, perché dipende, da chi è il nostro avversario, in sostanza, poniamo caso, che noi si stia aprendo, questo range, deciso in questo momento, non ho nessun motivo, di pensare, che sia esattamente, questo range, che stiamo aprendo, ok, una cosa così, sono pochi, 53% di range, va bene, noi stiamo aprendo, un range, di questo tipo, da bottone, il nostro avversario, big blind, sta difendendo, spero per lui, che stia un po' polarizzando, il suo range, ora, metto di nuovo, immagino stia foldando i due, immagino non abbia queste, può avere mani di questo tipo, dubito abbia tutti i cap, ma dovrebbe averne, la maggior parte, contro quella size, starà polarizzando, quindi, starà tribettando, la parte off, la parte suited, un po' più forte, posso immaginare, se sa quel che fa, si starà tribettando, anche una parte, di questo bottom range, ok, di bilanciamento, magari queste le ha in frequenza, adesso non ci interessa, troppo ragionare, sul range di difesa, ma grossomodo, questo non credo, difenderebbe tutte queste, ma questo è più o meno il range, che ci trasporta al flop, già tolto la tribette di valore, la tribette polarizzata, più o meno, non credo abbia tutto questo, ma va bene lo stesso, se noi pensiamo agli equiti, di queste due range, siamo 52,47, per noi, se pensiamo, per intenderci, una texture, ASK10, che ne so, i due range coinvolti, vedano un 50 e 50, abbiamo dato 8 miliardi di assi, ma la nostra Versailles, non sta praticamente mai tribettando, se pensiamo, a un board, 8, 7, 5, per esempio, anche se anche noi abbiamo abbastanza 8, ok, l'equity di due range, si sposta verso un 52%, ma il board, è sostanzialmente la stessa per flop, ma su questa texture, gli equity sui turn, si spostano molto di più, che sull'equity precedente, ok, l'idea, mi interessa solo l'idea, per adesso, poi chiariremo con degli esempi, mi raccomando, dipende da range specifico, se Apple ha chiuso, difende poco, tipo il 30% delle volte, e tribetta poco, quindi ha tutti gli assi X in call, un flop ASS-K, Jack, è vero che dà più un'azza a noi, perché abbiamo doppie, abbiamo sette, e va bene scale, le abbiamo tutte e due, e quindi il range avversario, è relativamente forte, ma non ha in azza, perché non ha, a parte che è a scala, ma il numero di combo forti, come AK, ASS-K, 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 Jack Jackson, tutte in mano all'original racer, e praticamente mai, in mano al giocatore, che chiama, ok, quindi, se Villain ha un range, di race versus cibetta, se pensiamo ai due board, se un board, ASS-K, l'abbiamo messo, ASS-K, 10, ok, BB, non ha un grande interesse, a risare, su una texore di questo tipo, a maggior ragione, se ha un botto di ASS-X in mano, tanto non riuscirebbe mai a bilanciarlo, se invece il board, fosse 8, 7, 5, che è un board del genere, tanti turn, spostano l'equity del nostro avversario, e se Oppo, sa, che noi stiamo cibettando, intero range, 100% del range, piccola size, che è una cosa un po' probriosa, da fare su queste texore, ma c'è chi lo fa, c'è chi lo fanno, allora lui dovrebbe pensare, che tante mani, su questo board, hanno bisogno di uscire prima, fuori posizione, c'è meno spazio, per gestire, le dimensioni del piatto, per creare, l'azione che vogliamo, e tante mani, anche di valore, ma anche di protezione dell'equity, di negazione dell'equity avversaria, se Oppo ci veda sempre, e noi qua, non abbiamo una strategia di range, su questo board, poi Tarno, Oppo magari, cerca sereno, e lui con una micro size flop, si vede due carte, e tante mani del nostro range, vedono mutilata la propria equity, un disastro totale, ok? Quindi ragioniamo sul fatto, che sul board, ASK Jack, per esempio, Oppo è meno incentivato a risale, per motivi concreti, su un board di questo tipo, è più incentivato a risale, ok? Ci sono delle eccezioni, che poi andremo a vedere, ma adesso mi interessa dare l'esempio, pre flop, tipo di giocatori, e i range impegnati, è abbastanza facile, Oppo non mi ha tributato, non ha ASS, ok? altra documentazione un po' semplice, dove Oppo ha un range di range, per esempio, OP, per esempio, Zappa, per esempio, con una board texture, dove altre cose sono più importanti, come negazione dell'epoca avversaria, protezione della propria, e dicendo, e capiamo, dove il flop, il range, può essere o meno cappato. Una volta disunto, insomma, capito da che parte è il cap, se il nostro flop può avere o meno range cappato, o trasportato sul turn, valuteremo sui turn, sui tipi di turn che escono, se resta il cap sul range avversario, o se addirittura non c'è mai stato, ok? Mi raccomando, andate con calma, mettete in pausa, prendete appunti, fate domande, so che siamo su YouTube, youtube.com, e non nel nostro ambiente familiare, di Google Drive, dove tutti i ragazzi, poi vi dicono, Andrea, chat di gruppo, argomento della settimana è questo, spammiamo domande, ma hai fatto un video con le domande e risposte, su un altro video che abbiamo portato questa settimana, sappiamo tutto. Allora, quando il range al turn, non è quasi, fra parentesi, mai cappato, mi raccomando, se togliete il quasi, quando il range al turn, non è mai cappato, non si ragiona mai, in termini mai, e questo va contro l'affermazione che avevo appena detto, ma mi raccomando, l'idea logica, no? Il concetto di tendere a un numero, che è concetti matematici facili, di limite, è vero, finché non arriviamo all'estremo, che è tanto più vero, tanto più si avvicinano alle condizioni che vogliamo, ma negli estremi, il nostro avversario dovrebbe fondare a Tc Proflop, perché magari è un giocatore che è in sit-out, perché ha problemi di connessione, in quel momento si avvicina alla realtà, non gioca a niente. Comunque, quando il range al turn non è mai cappato, mi raccomando quel quasi, allora il range al turn, al flop, prima del betting, i range coinvolti non sono mai cappati, ok? Resiamo, col call, esce un flop, 8-6-3, c'è qualche giocatore che può avere combo, i doppi di 8-6, può avere 6-6, può avere 3-3, qualche fish, immagino abbia addirittura 8-3, non dico che siano un haz, ma è una parte di range forte e avanti al range, in generale, che può avere anche il range di continuation battle, scremato in questa situazione, ok? E uno può essere mediamente più forte dell'altro, pensiamo, original racer da bottone, su board, asso K10, BB call, i due range, non è che questo board, contro il profilo che abbiamo analizzato prima, favorisca tanto, no? Bottone, eppure le combo più forti, restano comunque in mano a bottone, ma anche su un range debole, ricordiamoci, rispetto a un board come AK10, anche un range più debole, può itare comunque, praticamente sempre, delle combo di 7-3 doppie, su un board asso K10, pochissime doppie, ma una villain, magari ha chiamato asso 10 off, ok? Ma sono pochissime combo doppie, ma i 7, perché asso KK10-10, sono generalmente il 100% tribet, perché anche Solver piange l'idea di regalare equity, chiamando il Nats, Solver sbilancia, di solito queste mani un po' più forti, ma su un qualsiasi altro board, per esempio 8-6-3, dicevo prima, il nostro avversario, può avere flopato delle doppie, delle mani che hanno tanta equity, quindi rispetto al preflop, il flop toglie il cap, la maggior parte delle volte, è chiaro che se ci pensiamo, in realtà il board, che rilascia l'intera equity, del range di bottone contro BB, è per esempio 2-2-2, perché a parte che i combo di 2 sono molto poche in entrambi i range, comunque tutto il range di bottone resta forte come prima, Oppo ovviamente pesca meno carte, e anche mani come KK, o eccetera over card, mantengono meglio l'equity, su quel board, ora è per ragionare in termini di estremi, quindi quando il range al TAR non è quasi mai KK, a seconda della strategia di Villain, a seconda di che strategia il nostro avversario, in diverse situazioni, il range al TAR, mi raccomando, non è quasi mai KK, allora, chiama il flop IP in un tribettato, ok, noi apriamo, cioè noi tribettiamo, Oppo chiama, che ne so, da bottone, noi ci mettiamo, ok, in questo spot, bottone, in questo caso, che ci gioca in posizione su di noi, generalmente non adotta una strategia di raise, verso ci bet, visto che ha già posizione, spazio di pod building, generalmente ha informazioni in più, che tende a sfruttare tantissimi giocatori, io ho reso abbastanza spesso, però anche lì bisogna risolvere lo spot, e se stiamo giocando in linea di GTO, va benissimo anche fare un lock node, cioè dire no, qui Oppo chiamerà sempre, non riserà mai queste dinamiche, ci prendiamo spesso, poi quelle poche volte che Oppo cambia questa strategia, andiamo ad analizzarla, comunque, chiama il flop IP in un tribettato, quindi, noi tribettiamo small blind, Oppo chiama da bottone, flop noi ci mettiamo, Oppo è IP su di noi, non è detto che abbia una strategia, che è resa versus ci bet, che capita abbastanza spesso, pensiamo a un'altra situazione, dove non è mai cappato, pensiamo flop come range, e lo sviluppo al turn, allora ha chiamato flop, fuori posizione, multi way, quindi magari ha difeso dei blinds, oppure, ma può essere anche qualche dinamica, dove colcola da bottone, e noi apriamo, lui colcola da bottone, chiama fish dei blinds, fish cerca dei blinds, noi ci mettiamo, e lui ha ancora, il nostro avversario ha ancora BB, che è fish che deve parlare, mani come queste, in questo caso, il nostro avversario, può voler avere delle combo di nuts, le mani molto forti, in color flop, senza bisogno di resarle, per via del fatto, che c'è un fish dietro, noto adesso che ho scritto, full exploit, dunque c'è un fish dietro, che aumenta molto l'equity, del range, le possibilità di fare soldi, in play dots, e sviluppare il ring sul turn, in generale, se Villa non ha, una strategia di raise, versus cbet, e quindi non resa, per altri motivi, non resa flop cbet, allora il turn, non è mai capato, perché se ha i set, le mani più forti al flop, e non le resa, allora le porterà anche al turn, anche lì è da valutare, quanto è, se il nostro avversario, folda l'80% delle cifre, cbet e non resa mai, chiaramente il range, che difende flop, è super forte al turn, e quindi il suo range, molto forte, su tantissimi tanti, se il nostro hop, folda il 20% dei flop, e sappiamo che contro 6 piccola, non folda mai, allora è vero, che ha ancora delle mani forti al turn, ma comunque l'intero range, sostanzialmente, visto che non sta foldando, praticamente nulla, quindi è presumibile, che il suo range, non sia così forte, come nel primo caso, ok? Quindi comunque, cerchiamo sempre di ragionare, sul profilo avversario, e su come lui interpreta il gioco, è un giocatore bilanciato, cioè, sa cos'è questo concetto, riesce a pensare, che il suo parte di valore, va bilanciata, con una parte di bluff, che ci sono spot, in cui la sua strategia, optimal, non resa mai su quel board, oppure non ha un range di call, pensiamo alla dinamica semplicissima, come il gioco da small blind, contro bottone, apri il bottone, noi siamo da small blind, giocatore che ha una strategia, difficilmente, intanto con il range, con lo spot, e il suo range, il tribet sarà più verso il lineare, bilanciato, se poi ricevazione, saprà un po' quello che sta facendo, oppure no, non è bilanciato, gioca le carte, ok? Se nella stessa dinamica, bottone contro small blind, apriamo, small blind, di profilo un po' fisio, o magari, con poca esperienza, giocatore che non ha ancora studiato, avrà delle mani buone, ma non è abbastanza da tribetare, che magari mette in call, che ne so il K9, una mano fichissima, ma la posso tribetare? No, però mi dispiace foldarla, ed ecco che gioco le carte, e la chiamo. In più, il nostro avversario è consapevole, della nostra strategia, o no, ok? Tornando velocissimamente, al ragionamento, board, texture, range, vantaggio di range, chibet flop, il nostro avversario, se non ha consapevolezza, della nostra strategia, adattata su quel board, non è necessario, adottare una strata, anche di full check, su certe texture, perché in realtà stiamo usando una linea GTO, contro un giocatore, che GTO non è neanche lontanamento, non è neanche il sacro, lo vuol dire, pensa che sia una serie di Dragon Ball, che probabilmente era GTO e basta, ma non importa, comunque è consapevole, è una della nostra strata, siamo in full, ho scritto full, in full exploit, o abbiamo necessità, di bilanciare il nostro range, stiamo ignorando, la protezione, del nostro range, se noi stiamo ci bettando tutto, o stiamo ceccando tutto, ok? i range che trasportiamo al Tarn, è tutto il range di check al Tarn, quindi togliamo il K dal nostro range, perché noi al flop ci chiamo anche i set, quindi al Tarn abbiamo anche i set in sostanza, o quando il nostro hop ci betta verso Smith, abbiamo anche i set, oppure stiamo ci bettando l'intero range, così al Tarn abbiamo ancora, di nuovo tutti i set, se il nostro avversario non è interessato, perché non è cosa che lui va giù, non ha mai studiato, mai ragionato sopra, allora non ci interessa bilanciare i nostri range, di adottare una strategia, che sa che quando ci bettiamo, magari una size un po' più polarizzante, quindi il nostro valore è un po' più grande, il nostro semi blef con i giusti blockers, insomma il nostro blef, tendiamo ad avere un check un po' più medio, perché polarizzare un range, vuol dire rendere un po' più medio l'altro, è come quando stiamo trebettando da BB, contro uno smart blind, per esempio, insomma, mi raccomando ragazzi, il trasporto della logica, è un video un po' pesante, ma mandatelo giù, mettete in pausa, fate domande, fate cose, so che siamo su YouTube, è un po' più complicato a fare domande, ma ok, comunque ragioniamo sempre, siamo consapevoli, su perché e cosa stiamo facendo, allora il concetto di cos'è un range cappato, dovrebbe essere abbastanza chiaro, cioè contiene un numero trascurabili, di combo di nato, partendo da questo, ragioniamo su, quando il range altare è, mi raccomando, l'ho messo fra parentesi, sempre cappato, non è vero che è sempre cappato, spesso che è il numero trascurabile, allora quando invece è cappato, nei che ad esempio prima, non è cappato, perché non è recappato il range al flop, quindi difficilmente al turn, un range che non è cappato al flop, può essere cappato al turn, allora quando invece è cappato al turn, allora Villain ha una strategia, di raise versus cbet al flop, generalmente polarizzata, la strategia di range versus cbet, cosa intendo, che tendrà a risare il suo valore, un po' più forte, il suo bluff, quindi blocker sul nostro range, e mani che possono essere bleffate, il suo più stretto, e se polarizza un po' di più il range di raise, il suo range di chuckle, in questo caso, se gioca a, se gioca a op, sarà medio, che difficilmente contiene, la parte più alta, difficilmente ha fin value, value, protezione, negazione dell'equity, questa parte è meglio di range, non ce l'ha, ok? E non ha risato flop, allora ha una strategia di raise, verso cbet, generalmente polarizzata, e non in tutti i casi, ma generalmente, e non ha risato al flop, allora, molti più turn, capperanno il suo range, perché chiaramente, non ha i set, non ha delle doppie, non ha mani, che sono, sono più importanti, mettere in check raise, se giochiamo a op, soprattutto in check raise, se giochiamo a op, ip è un po' diverso, ma abbiamo già accennato qualche esempio, comunque, se il suo range al flop, direi scoprendo, ok? Un po' di bluff, ma anche tutta la parte più forte, molti più turn, lo lasceranno senza nas, ora, per fare un esempio a caso, poi lo vedremo meglio, comunque flop, che ne so, 10, 7, 2, quel esempio super tipico, 10, 7, 2, perché è un board, dove quando op chiama, generalmente, non ha un range fortissimo, su quei board, e pensiamo a un turn, 3, ok? Magari addirittura 10, 7, 2 con 2 quadri, turn, 3, non di quadri, e che mani ha migliorato, il rendito avversario? Sì, 3, 3, probabilmente di fiori e picche, e di fiori e cuori, perché quello di quadri, probabilmente ha 3, 3 di quadri, con un quadro, quando ci chiama flop, quindi un paio, di combo di sets, non è, è trascurabile, è quello che volevo dire, non è un turn che sposta molto, che è il record del suo range, quindi, torniamo ai nostri esempi, non ha risato flop, e molti più turn, cappano il suo range, pensiamo a un flop wet, quindi wet, sapete no, cosa intendo, quando molti turn, spostano drasticamente, le equity dei due range, ok? E comunque, su un flop wet, dove negare equity, più uscire, in timale, protezione con range, più merge, non sapete, spero sappiate, di cosa sto parlando, se no chiedete, o cercate su google, ma lo dovreste sapere, comunque sono più importanti, come criteri logici, di gioco, di realizzazione e negazione, dell'equity, realizzazione della nostra, negazione dell'avversario, pensiamo a Villain, che affronta una strategia, di 100% cbet, con small size, anche su questi board, noi, Original Razer, che giochiamo, controllo giocatore sensato, difficilmente, adotteremo una strada, di full cbet, small size, su questi board, perché siamo poi sensati, noi lo facciamo, ci stiamo schiantando, in sostanza, il nostro oppo ci palleggia, un sacco, perché su quei board, abbiamo due terzi, del nostro range, che è banane alle fragole, che possono essere buone, ma la banana rosa, ma chi la vuole in sostanza, va bene, quindi se stiamo giocando, contro il giocatore osservante, che sa quello, che noi stiamo facendo, e noi stiamo giocando male, ok, allora, il nostro avversario, sarà comunque, decisamente, spinto, a risare più spesso, se oppo c'è colla, su questi board, e noi cerchiamo turn, a costo di, cosa abbiamo, due BB, ok, su questo pot, noi vediamo flop, turn, river, e possiamo realizzare, tutta la nostra equità, il nostro avversario, sarà molto, veramente super triste, e non dovrebbe farlo, ok, altro spot, è quando siamo, oop, che è il nostro avversario, oop, e ha minor controllo, sul pot building, ok, se giocchi, può avere anche il range, di colpi frequente, meno range di race, ok, non facciamo, ehm, assunzioni ultra generalizzate, io assumerò, tutta l'Italia, in un contratto di lavoro, sarei un ottimo politico, non assumerei, assolutamente nessuno, ma adesso, non diciamo troppe sciocchezze, perché siamo a, mezz'ora, e siamo alla slide 6, questo video sarà in più parti, ok, allora, non facciamo assunzioni ultra generalizzate, sempre e mai, ok, sono altrettanto pericolose, le ho messi tra parentesi, sempre e mai, se noi togliamo, il sempre, ehm, quando è tanno, è cappato, noi diamo spesso, molto spesso, il più spesso possibile, educated guessing, ok, strategia generale nostra, sviluppo dei nostri range, sul labor texture, secondo i principi, che abbiamo studiato, stavate fatto del team, che avete studiato, e poi le linee esploitative, che cambiano la nostra strategia, cambiando quindi, sostanzialmente, l'effetto sui nostri range, e sulle nostre size, l'effetto finale, quello che noi mostriamo al tavolo, è solo quello, ma in realtà, le nostre argomentazioni, sono abbastanza più di, se avete domande, mi raccomando, scrivetelo, non so, sono noioso, me lo sento, allora, definizione, altra definizione, cos'è un blank, al Tarn, cos'è un game changer, ecco, ho cercato di trovare altre parole, ma, tutti lo chiamano game changer, quindi, verrà chiamato game changer, volevo essere originale, e l'ho chiamato, come lo chiamano tutti, allora, Tarn, parliamo di Tarn, ma ovviamente si può ragionare, anche sui river, ok, e in qualche modo, anche sui flop, se ragioniamo sui board, sui range, ma per ora pensiamo al Tarn, stiamo lavorando su Tarn, questo è un blank, ok, è una carta che non migliora, il range di Villain, perdonatemi gli esempi, sono sempre quelli, ma sono solito quelli, cercate online, un materiale, Tarn, guardo, cercate quello che volete, sono sempre quei tre, gli esempi che girano, ma lo cercate, vabbè, allora, una carta che non migliora, il range di Villain, ricordiamoci che Villain, in questo caso, ha chiamato flop, se no, non saremmo in Cibet Tarn, se non l'avesse chiamato, flop è 10, 7, 2, Tarn, casca un 3, ok, a parte, vi dicevo prima, qualche combo di 3 e 3, poco, poco range, sarà migliorato sui Tarn, non gli dà delle doppie, gli dà questo unico set, non chiude nessun drone, non apre nessuna strada, ho lasciato apposta, senza mettere i semi, di questo board, perché cambia, chiaramente se 10 e 7 fossero di cuori, 2 di picche, 3 di picche, già la picca ci apre i 3 quinti colore, che diventano 4 quinti, quindi quando noi andremo a rimarrare la return, è importante decidere, se vogliamo quella picca, se vogliamo quei cuori, dobbiamo bloccare un range effettivo, tecnicamente avere, se sono cuori e quadri, 10 e 7, 2 e 3, quadri e quadri, le picche e i fiori, non bloccherano i range di 3 quinti, che vanno a migliorare l'età, ok? di idea, mi raccomando, ecco invece, sul secondo board, Kjack 9, tutte le picche, ho messo apposta i semi, così da capire, che un 6 di cuori, come nella parte sopra, è un blank, la carta blank, 6 di cuori, non cambia range avversario, sostanzialmente, a parte, possiamo immaginare un 6-6, con 6 di picche, potrebbe averlo, il nostro avversario, chiama bottoni, chiama BB, check flop, c'è colla, 6-6 di picche, anche se, vabbè, solver, magari non è molto d'accordo, comunque, tankas con 6, e 6-6 di picche, può avere in mano il nostro avversario, ma sono due combo, e su un board Kjack 9, vista la texture, il nostro avversario è propenso, perché gioca a OP, e il board è molto wet, in sostanza, molti time, molti river spostano, è propenso a risarie più spesso, che ha picche off-suit, se chiama da BB, contro apertura di bottone, può averne, e la maggior parte, non avrà le picche, nel suo range di check-all flop, a qualche parte, dovrà essere esata, anche per protezione, della sua equity, qui, non avrà mai, dei jack 3, off-suit, se pensiamo alla difesa del BB, difficilmente sta difendendo, jack 3 off, quindi anche la second player, non migliora quasi mai, su quel 6, soprattutto se jack 3, ok, comunque una carta blank, è una carta che non sposta, sostanzialmente l'equity, dei due range coinvolti, possiamo ragionare, ma mi raccomando, non mischiamo troppi i concetti, il nostro intero range flop, ok, abbiamo detto, stiamo ci bettando tutto, per cui possiamo pensare, a caso, che sia questo, e sia flop che turn, perché abbiamo ci bettato flop, intero range, hop non ha risato, il range del nostro avversario, invece, per puro caso, lo metto così, e tolgo solo la parte alta, che avrebbe tribettato, ovviamente per snellire, quando noi, quando il nostro avversario, affronta ci bett, al flop, lui potrà chiamare, resare o foldare, viene da sé, comunque la cosa interessante, è che non difenderà, chiaramente tutto il suo range, e la sua air, quindi proprio 0 block, sul nostro range, 0 equity sui bord, è la parte, che lui andrà a foldare, mentre noi, ce l'avremo a cantare, perché se stiamo ci bettando, intero range, così funziona, ok, quindi ragioniamo, su che tipo, qual è il range, trasportato, dal flop, al turn, senza generalizzare troppo, ok, cerchiamo di ragionare, su blockers effettivi, su range, che il nostro avversario, possa avere, se noi diciamo, ma su questo board, dopo a tutti i jack off, jack x, e questo 6, di alcune doppie, davvero sta difendendo, jack 6 off, contro apertura da bottone, forse c'è qualcosa, di complicato, ok, comunque, e vi dicevo, possiamo ragionare, su come si spostano, gli equity dei due range, quindi noi, pensiamo al nostro intero range, flop, che va anche al turn, togliamo air, il nostro avversario, togliamo la parte, che ci avrebbe resetto al flop, e vediamo quel turn, dove sposta, le due equity, normalmente, visto che Oppo, folda le sue air al flop, l'equity al turn, è generalmente, a favore, un po' più spesso, a favore, del range avversario, perché rispetto all'analisi, che abbiamo fatto al flop, lui non ha più la sua air, e noi ce l'abbiamo ancora, ma dobbiamo pensare, che Oppo, comunque giocca a Oppi, senza aggressor, e non riesce a conservare, tante equity, quindi l'equity grezza, che ci dà, beh, è molto utile, per capire un sacco di cose, ma non riesce a essere conservata, se la nostra strat IP, è ben sviluppata, e noi negheremo, tante equity, tutti i concetti, su cui si basa il solvere, su cui noi vogliamo, a cui noi vogliamo arrivare, a avvicinarci, quindi Blank, è una carta, che non migliora, il range del nostro avversario, ok, 10, 7, 2, turn, 3, se turn, pensiamo a game changer, carta che migliora il range di villa, 10, 7, 2 flop, turn, jack, ok, questo è il secondo esempio, il nostro avversario, cosa può avere su quel jack, povere jack 7, senz'altro, povere jack 10, mamma mia un sacco di volte, povere kq, perché no, 2 over, incastro di scala, migliora, povere q jack, povere jack 9, povere jack 8, che povere è, abbastanza, povere 10 e 9, per averci fatto scala, non dovrebbe avere jack jack, posso immaginare, potrebbe, ma dipende, da che strategia adotta, andrebbe anche check resata, avere dei jack 2 suited, su quel board, ma anche lì, dipende, dal nostro avversario, che strategia sta adottando, però è chiaro che quel jack, va abbastanza a vantaggio, del range avversario, ricordiamoci a flop, li facciamo fondare la sua air, non ha check resata, per cui è più probabile, che ci giri anche mani, come jack 10, che non ha troppo motivo, di essere resata, su una testa di questo tipo, dove magari oppo polarizza, un po' di più, o mi raccomando, seguite, se avete dubbi, pausa, tornate indietro, fate domande, o cambiate video, cioè guardate qualcos'altro, che forse è meglio, pensiamo ora, allo stesso board di prima, jack, k-jack 9, tutte le picche, ma turn casca un 6 di picche, ok quindi, cambia abbastanza i giochi, il nostro avversario, al turn, può tranquillamente avere, non so, jack 10 con 10 di picche, per esempio, asso jack con il lasso di picche, perché no, chiama preflop, ci può stare, non sempre che li mettano tutte le combo, dipende anche da che posizione, si sta giocando, al flop, non ha praticamente nessun motivo, di risare questo tipo di range, e ovviamente, probabilmente, diverse combo forti, come Q10, sweetened, a parte che spesso, le hanno tributate preflop, verranno risate a flop, ma su 6 di picche, diversa parte del suo range, ha migliorato, ok, ha migliorato la sua equity, perché, l'air la fondata al flop, non ha risato su questo board, una pair più flash draw, è spesso nel suo range, e ricordiamoci, che nella nostra analisi, lo dicevo nelle premesse, noi stiamo cibettando, in intero range, ok, se al flop, il range di Villan, era presumibilmente cappato, e al turn esce una blank, allora sarà cappato anche al turn, che è considerazione generale, mi raccomando, da prendere con le pinze, comunque, se noi valutiamo questa strada, range flop, decidiamo che è cappato, considera, valutando la situazione, non dicendo, su questo board è sempre cappato, figuriamoci, poi c'erano 5 giocatori nella mano, tra cui uno spiglio, che sta valendo di tutte le mani, sbagliamo noi, che le assumptions, soprattutto se prese presto, del nostro sviluppo della strategia, creano errori molto grandi, mano a mano che sviluppiamo la strategia, fare errori di assumptions di River, è meno grave, generalmente crea meno effetti squilibri, sui nostri range, di quanto lo faccia, pre flop e flop, dove c'è ancora tanto spazio di manovra, andiamo a sbilanciare tantissimo, poi i nostri range, quindi se il range flop, è raccappato, secondo la nostra educated guessing, allora su un term blank, è ancora cappato range avversario, se al flop, il range di Villa, era presumibilmente cappato, su un flop, capa jack 9, tutte le picche, ci aspettiamo, un po' più frequenti, un range un po' più polarizzato, ok, al turn esce un game changer, come un 6 di picche, allora il range avversario, non sarà più cappato, cioè abbiamo tolto il cap, del range avversario, quindi il blank, lascia e conferma il blank, il blank lascia e conferma il cap, sul range avversario, il game changer, sposta il cap, lo toglie, un cappa il range avversario, ovviamente K, era troppo figo da tenerlo davanti al tuo nome, se al flop, il range di Villa, non è cappato, allora non sarà cappato al turn, è abbastanza facile, no, al flop, il nostro avversario, chiama con i set, con le scale e con tutto, non è che ci sia un turn, che gli cambia la vita, perché lui aveva tutto il flop, via tutto il turn, forse ne ha addirittura qualcuna di più, ok, come considerazione, possiamo aggredire i range cappati, con una strategia che comprenda size in overbath, solo quando presumiamo che il cap sul range avversario, resti anche al turn, ok, non è complicato l'idea, e quando noi decidiamo come sviluppare la nostra strategia, normalmente stiamo pensando ovviamente che splitteremo il nostro range, tra più size, tra la size, non so, mentre che stiamo giocando 35, 65, 120, per 100 pop, e un range di check, poi dipende dalla dinamica, però ragioniamo su tre size, e ovviamente la protezione del range di check, tutte le volte che serve, la seconda, quella è la situazione, è anche un po' troppo, chiaramente va bene, fa soldi, senz'altro, possiamo anche cambiare un po' le size, mi raccomando ragazzi, per ora non mettete mezzo pot, nei vostri bilanciamenti, soprattutto affinché state studiando, ci sono spot dove si può fare, ci sono dei board dove possiamo ottenere una size mezzo pot, il problema è che dopo è difficile bilanciare le altre size, per ora, e ci sono spot di un giorno, qualcuno dirà, andre, grazie a te consiglio, ho deciso di usare la strat di cibetti mezzo pot, su queste texture, contro questi giocatori, ed è la nuova size definitiva, è come quando una volta è stata introdotta la, small cibet size, full frequency su questi board, wow è geniale, 3 e VBB, presi a gratis, facendo la cosa più facile del mondo, più o meno facile, basta capire cos'è, e prima, nessuno avrebbe mai detto, ma perché devo ci mettere piccolo su queste board, siamo impazziti, magari, mezzo pot diventerà la nuova size definitiva, su quelle texture, per ora non lo è, se voi fate mezzo pot, vi togliete la possibilità, di lavorare bene, sulle altre size, che è meglio che siano, 35%, 35, 40, non c'è problema, 65, 70, va bene uguale, 120 più, per cento, con la size di overbet, mi raccomando solo, che la size overbet, è un po' più polarizzante, delle altre size, ma lo vediamo a breve, abbiamo altre, 20 schede, no, 13 schede, che vedremo, a breve credo, è una size un po' più polarizzante, che va bilanciata, non giochiamo all'animala, e facciamola solo, perché sembra figo, flop è cappato, turn è cappato, sparo la bomba, non va bene, sono size che vanno bilanciate, il nostro hop deve essere, nell'indifferenza, ok, comunque, possiamo adottare, una strategia, che comprenda, due size, immagino, 35, 40%, facciamo 35%, che è un terzo pot, è più facile, e 120%, due size sui turn, solo quando, il cap, è ancora presente, sul range avversario, se il cap, viene tolto, dal range avversario, adottare una strat, di big size, è un disastro, soprattutto, con le mani medie, perché, è vero che, poi lo vediamo, che strategia, adottiamo, ma se noi scegliamo, due size, piccola e grande, 35, 120%, e andiamo a fare, una size big, magari con i blockers, per un second nut, o con tante mani medie, è proprio, lo schiantarsi, contro un range, migliorato dell'avversario, all'esatto contrario, di quello che vogliamo fare, vorrei arrivare almeno, tipo alla slide 10, ma forse, non ce la farò, comunque, avanziamo almeno, un altro po', perché sennò, per ora, vi ho dato due definizioni, e tanti piccoli collegamenti, che, ripeto, sono già chiari, per chiunque, faccia parte del crazy team, abbia già visto, il resto del materiale, ma va bene, strategie dinamiche, statiche, un appunto, su come il nostro avversario, vede il nostro gioco, e su come noi vediamo, il gioco al nostro avversario, se la strategia di Villain, si adatta alla nostra, ok, allora dovremmo ragionare, su come lui, ci percepisce, ok, pensiamo a questo caso, stiamo ci bettando, 6 piccola, su board, 644, ok, 644, non importa nel suite, 644, e stiamo ci bettando, il nostro intero range, quindi su full ci bett, ora il pot è 5 boi, noi abbiamo scelto la size 1.8, cioè 2, 35% del pot, ok, e il nostro avversario, ne è consapevole, lui sa che noi stiamo ci bettando, intero range, su quel board, che è ancora un board, dove in realtà, conserviamo abbastanza, il nostro margine, ma il nostro equity, l'equito del nostro range, e a un board dove in teoria, ma 644, è un po' diverso, il nostro avversario, è meno incentivato, cioè cresare, proprio perché noi abbiamo, qualche asso forte in più, e qualche per in più di lui, che è tipo un 5% di spostamento di equity, che comunque pesa abbastanza, la lunga, e quindi il nostro op, è un po' meno incentivato, ma chiaramente, se op è consapevole, del fatto che noi stiamo ci bettando, come dei caimani svizzeri, che è un problema, essere dei caimani svizzera, in periodo di coppia, stiamo ci mettando, intero range, su questo board, allora il nostro avversario, dovrà avere, quando resa, valore più forte, quindi 4x, sono praticamente sempre, nel suo range, di race, non ne ha neanche così tanto, dei bluff, in questo caso ho messo un 5x, per dire un blocker, quindi il blocker è 5x4, blocker è 5x6, ha equity, ed è 5 alta, un po' meno, un po' di più, insomma dipende da cos'è la kicker, comunque una parte di top valore, una parte di bluff, una parte di protezione, pensiamo 8x8, 9x9 nel suo range, anche se una frequenza, saranno i 3bet, e comunque generalmente, un range più margin, quindi la maggior parte, del suo range di difesa, versus bett, sarà al flop, se lui andasse a chiamare solo, contro la nostra strategia, su questo board, noi realizzeremo, un sacco di equity, un sacco di turn, sarebbero buoni per il nostro range, tutti gli overcard in sostanza, e noi realizzeremo, un sacco di equity, cercando eventualmente turn, vedendo river, piatto piccolo, il nostro hop non ha spazio di manovra, non può fare pot building, e non negare l'equity, è un problema, e su queste texture, è incentivato, ad avere un range, più margin, con più valore, anche thin, mani un po' più deboli, ma che devono difendere, la loro equity, e hop ne è consapevole, sta pensando al fatto, che noi stiamo pensando, che lui sta pensando, non è vero, in realtà dice, questo Godzilla, cosa fa, mi fa le cibetricole, se questi board lo palleggio, giustamente reagisce in questo modo, ok, villain ne è consapevole, se villain non ne è consapevole, quindi non ha idea, di quello che noi stiamo facendo, dobbiamo capire, perché gioca a poche questo ragazzo, pensiamo al profilo overplayer, cioè giocatore che ha un range, non pensiamo a un giocatore, che gioca al 90% di VIP, e poi al flop, se ha le carte, manda le bombe, se non ha le carte, se ne va, non pensiamo a, i software programmati, malissimo, che è un giocatore che è sensato, però più o meno sensato, allora hop non ne è consapevole, non sa quello che stiamo facendo, magari sta giocando a 6 tavoli, giocando alle carte, e ha un overplayer range, quindi come sapete, su profiling, lui prende il suo range di gioco, quella parte che difende su quel board, e va a giocarlo, un po' a poco, guardando la size che stiamo facendo, con scarsa percezione del nostro range, della nostra strategia, e di come poi il suo range, andrà sviluppato sulle altre street, generalmente un overplayer, prende il suo intero range di difesa, le mani che vuole giocare, e generalmente resa questi flop, c'è Teresa, giocando a B, raramente, questi giocatori hanno una dog bet, soprattutto su questi board, ma è raro, comunque quando mette una mano in check-all, molto spesso, ha veramente dei nuts, cioè mani veramente forti, perché resa tantissimo, mettiamo a caso che lo difende a metà, delle sue mani, un po' esagero, reserà i suoi 5x, dei 7x, dei 7x, dei 5x, dei 5x, delle 3x, delle 3x, dei 2x, dei 5x, dei 5x, cioè praticamente tutte nel race, folderà ovviamente abbastanza spesso, e in check-all, ha praticamente solo i 4x, 6x, e mani comunque di questo tipo, in questo caso, contro questo range, non possiamo aggredire a molti turn, perché chiaramente è un range molto piccolo, e molto forte, non possiamo bluff cacciare un crank e river, visto che la maggior parte dei suoi draw, sono in race a flop, difficilmente trasformerà in bluff, questo tipo di mani, ok? Stratese dinamica e statica, pensiamo anche, come sviluppo di questa osservazione, ma ne parlo più avanti, comunque, che alcuni avversari, soprattutto i micro, ma anche a 100-200, può capitare, non sono sensibili, alle dimensioni del piatto, cioè per loro, sai, fai quella che vuoi, se loro hanno quel pezzo del board, non lo folderanno, neanche se andiamo all'indiretto, ne so, Villain su quel board, ha asso 5, con due cuori, e c'è un 4 di cuore, diciamo, c'è un 4 di cuore, di color, sparami pure la cannonata, e io me la difendo, ok? Quindi, dobbiamo capire, il nostro avversario, su che profilo è. Comunque abbiamo ragionato, su un Villain consapevole, che su quel board, modifica i suoi range, in base alla percezione, che ha sulla nostra strategia, su un Villain non consapevole, che overplaya, il suo range, che gioca, pensiamo a un Villain, non consapevole, che invece è uno Spigui, lui overplaya, un po' a caso, cioè non ha un range, che va overplayato, ha proprio l'emozione, di voler resare, quando avrete questa 6 piccola, quindi può avere, su quel board, può avere, che ne so, Jack 2, a V, che su un board, 6, 4, 4 di cuore, per intenderci, quindi non ha un range, ha proprio l'emozione, che va overplayare, quindi si esposta, verso il profilo, aggro, sostanzialmente, mania, che quello che ha, la Villain non è consapevole, di quello che stiamo facendo noi, quindi gioca le carte, gioca i suoi tavoli, e ha un profilo, abc, il solito gap, tra le stats, riflesso sulle statistiche, cose che già conoscete, allora in questo caso, il nostro avversario, tenderà a resare, praticamente assoluto, a range, su questo board, quindi immagino, che magari, è una combo di 4 a 4, ce la colli, magari anche 6 a 6, ma se 4k4, 7 a 7, 8 a 8, dipende se c'è la resa, comunque un profilo abc, e riserà a flop, il suo mid range, raggiungerà spesso, lo showdown, su un modi, tenerive, se ho un profilo abc, pensiamo alla mano, come non so, 5 a 7, difficilmente la riserà, come parte di draw, la possiamo ancora bleffare, senz'altro noi, quando lui la chiama, lui difficilmente, trasformerà in bleff river, visto il profilo di avversario, un po' di profilo abc, poi su lettura, possiamo modificare i nostri range, e ci aspettiamo un range, che comprenda mani, visto che sarà, presumibilmente anche nitti, mani come 5 a 5, 7 a 7, 8 a 8, non so, 10 a 6 suited, 6 a 7 suited, 6 a 8 suited, quindi, per che lui non va, a resare in valore protezione, è chiaro che in questo caso, più turn e più river, mettono pressione, al suo range, a qualche asso, mania a pochi, rispetto all'altro giocatore, per intenderci, che giocava, il suo range, in maniera diversa, possiamo quindi, value bettare, fin, più turn e più river, andiamo a caso, che turn, caschi, non so, in K, lui nel suo range, ha tantissimo combo, di pocket pair, come 5, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, eccetera, e noi magari, possiamo ridurre size, e andare a value bettare, più spesso, contro questo range, in linea explotativa, possiamo anche, alzare size, per mettere più pressione, a questo tipo di range, che generalmente, non ha mai in up, perché avrebbe risotto prima, la profilo abc, e andare a bleffare, più pesantemente, sui board, che spaventano, il suo range, ok, pensiamo, su questo board, 6, 4, 4, con un cuore, quando turn, casca il 6 di fiori, non è probabile, che Oppo, abbia molti, 6, 10 di fiori, non è probabile, che abbia molti 10, potrebbe avere, Jack 10 di cuore, ok, che andava per il 2, over 4, 5, ma sono veramente, poche combo, ok, penso sia, abbia abbastanza senso, parliamo delle size, sì, forse no, magari ne parliamo, la prossima volta, visto che è un'ora di video, allora, promesso, iubeo prometto, iuro, dicevano i latini, no, forse dovrei, o abbandonare il latino, o andarlo a ripassare, nella prossima parte, che a quanto pare, avrà tre parti, questo video, per quanto ci ho messo, a farvi le prime, 8 slide, ok, parleremo, di come reagisce, il nostro range, quindi le size, che teniamo, vi lascio una puntina qua, che è il 120%, 35%, 65%, e su, le prime considerazioni, sulla strategia, ragioniamo, su size, le trasportiamo, su diversi turn, e potremmo fare qualche argomentazione, anche sui river, ma non vorrei uscire troppo dal topic, se no questo video non finisce più, e poi ragazzi, il gruppo mi fa, andrei, perché hai condiviso questo materiale, che di solito condividi, che è solo con noi, hai condiviso su YouTube, e io ripeterò, ragazzi, perché così, i ragazzi di YouTube, mi mettono il like, sul video di Isaac, guardate che sul video di Isaac, non mi prende almeno 10 like, 10 è un numero che fa girare la testa, non so a chi, ma può far girare la testa, e io impazzisco, ma veramente impazzisco, quindi dai dai, smash that button, andate a mettere like, anche senza guardare il video, siamo malvasi, siamo dei clickbait praticamente, comunque, parleremo di come reagisce il nostro range, le size che adotteremo, nella nostra strategia, ragioneremo anche sugli effetti, di questa strada, nel nostro range, lo sviluppo dei range avversari, lo spostamento, della nostra strategia sui river, per almeno qualche concetto, lo vogliamo mettere giù, perché, ricordiamoci, quando facciamo review, se noi facciamo, della Samsung, molto presto nella mano, faremo grandi errori, spesso, man mano che la mano, si sviluppa ulteriormente, se noi quando, lavoriamo in review, partiamo dal river, vediamo la singola mano, che è stata giocata in quel modo, vediamo, ovviamente in quel caso, cosa gira avversario, generalmente si perde, perché quando facciamo review, principalmente si parte, dalle mani dove parliamo, perché troviamo più spesso errori, non per altri motivi, e da lì sviluppo, vediamo qual è, la mano che abbiamo bettata, capiamo quanto range di blef, abbiamo in quel caso, e vediamo se è abbastanza bilanciato, quel valore, e facciamo la strada al ritorno, quindi, al ritroso, quindi partiamo dal river, andiamo al turn, perché vi faccio, ne so meno combo, se abbiamo 60 combo al river, di blef, ci sono tantissime frate, perché dovrebbero essere, però voglio bilanciare un range, per i soldi, 120 combo di valore, che sono 180 combo, che magari sono 360 al flop, e sono 720 al, no, 360 al tar, 720 al flop, probabilmente da qualche parte, abbiamo esagerato, poi dipende dal board, e dal nostro strat, ma è più facile riconoscere l'errore, e lavorarsi a ritroso, per poi correncerlo, e andare a diventare giocatori, sempre più forti, con criterio, comunque, la prima parte del video, era questa, abbiamo chiarito un po' di concetti, abbiamo fatto un po' di, come dire, collegamenti, con altri criteri, che dovremmo più o meno conoscere, se stiamo studiando, questa interessante materia, che è poca in sostanza, e nel prossimo, andiamo a vedere, le nostre size, diversi board, il nostro sviluppo, nella strategia, se faccio a tempo, metto anche gli esempi, che ho già preparato, mi sono divertito un sacco, a fare degli esempi extra, manipolando, mining the older manager, per caricare, sul nuovo database, perché così, aveva senso, perché ovviamente, io faccio size, che non sono mai precise, proprio giuste, perché, non ho la pazienza, di solito, per scriverle, quindi, vado sempre un po' arrotondale, ma poco importa, comunque, è chiaro, avete domande, dubbi, perplessità, incertezze, scrivetemi pure, anche da qua, sarà un piacere, cercare di rispondere, ecco a commenti su YouTube, questo, schede e video, poi, condividerò ai ragazzi, anche del gruppo, soprattutto le schede, poi, ne parleremo, per una settimana, o di più, e raccoglieremo domande, risposte, tutto verrà condiviso, tutto free, con tutti i ragazzi, quindi, mi raccomando ragazzi, cosa vi deve essere rimasto? Questa materia un po' ostica, ma non siamo da parte ostica, siamo da parte generale, questo dovrebbe essere di facile comprensione, sarà interessante ragionare sui blockers effettivi, del range avversario, trasportato nelle varie street, ma ci divertiremo un mondo, ragazzi, siamo come quel tizio delle 5 leggende, cui lavoro, a quanto pare, era fare il buffone, ma non so perché, non viene in mente film invernali, quando il caldo ci sta attanagliando, mi raccomando, video di Isaac, smash that button, guardate che se non ve lo 10 like, su un video di Isaac, io non vi faccio una parte 2, non è vero, ho fatto lo stesso, ma vi raccomando, mettete le salamide primo, e detta questa sciocchezza, comunque ragazzi, io vi saluto, per i video di oggi è tutto, un saluto alla prossima, da North Keen, bye bye!